Sono 228.179 positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 1.481.349 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 15,4%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 434 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.448 e i ricoverati in terapia intensiva sono 1.715. Grazie a tutti.